Ah, la racconti! Questa è una sorpresa che fa voi. Sono contento. No, è una storia di... è genovese. Non voleva. Sono ligure, no? E' molto milanese, perché a Milano dobbiamo molto tutti. E ho questa storia di genovese, perché in teatro è difficile sentire raccontare delle storie di genovese. Sono o in napoletano, in romano. Io voglio dire una storie di genovese, insomma, in omaggio alla bella Genova. Ed è quella, tu la conosci, te l'ho già raccontata. Ma fingerò, fingerò, divertimento graduale, fino ad esplodere alla fine. Sarò bravissimo. Ed è quella, te la suggerisco io, non te la ricordo. Ed è quella. È napoletano, gambanino. No, pasquale. Pasquale raccontato. Ed è quella. A Genova, sotto Ripa, ci sono gli uffici, no? Di questi armatori. I scagni, no? Cos'è detto, uscagno, no? E in questo scagno c'è il solito signor Parodi, genovese, Ushu Parodi, che dice all'uomo dello scagno, all'uomo d'ufficio, diciamo al galoppino. Pasquine, mi empiti in che tempo fa. Cambiato il nome. Pasquine, ho cambiato il nome. Dicò era Fortunin, adesso mi chiamo Pasquine. Alla prova ho detto Fortunin, adesso Pasquine. Fa, mi è un po' che tempo fa, guardate che tempo fa. Allora, questo metto, se faccio alla finestra, ritorno e fa, Ushu Parodi, con l'impressione che oggi ci avremo un po' di pioggia. Allora Ushu Parodi lo guarda e fa, ci avremo? Non siamo mica soci. Non siamo mica soci. Grazie.